Dopo giorni di chiacchiere e indiscrezioni, l'ufficialità. Antonella Clerici lascia la conduzione della prova del cuoco. . Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice, in diretta, nel corso della puntata del co-hawking show di R.A.I. 1 del 1 maggio. Ecco le sue parole. Parlando con uno dei cuochi storici del programma, Cesare Marretti, la conduttrice ha aggiunto. Antonella ha chiuso il momento promettendo di raccontare ogni cosa durante l'ultima puntata, il primo giugno, tra un mese. . Sembra, inoltre, che insieme ad Antonella anche un'altra presenza storica del programma, lascerà il suo posto a fine stagione, si tratta dell'inossidabile Anna Moroni. Pare che a prendere il posto della conduttrice sarà Elisa Isoardi. In questo caso, però, non c'è ancora l'ufficialità. .